Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Elsa Fornero, economista ed ex ministra del governo Monti, buonasera ministra tecnica peraltro e capiremo anche perché è importante questo aggettivo, buonasera Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano e buonasera Stefano Massini, scrittore, buonasera, allora il piano Colau per il rilancio dell'Italia post coronavirus sembra piacere più a Salvini che al governo, ma è solo che la politica diffida dei cosiddetti tecnici o ci sono crepe serie all'interno della maggioranza su come impostare la ricostruzione? Subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti! Elsa Fornero, sul piano Colau oggi è stato tutto un fiorire di commenti piuttosto freddi quando non ostili da parte delle forze della maggioranza. Perché la politica diffida così tanto dei tecnici? Lei è stata un ministro cosiddetto tecnico del governo Monti? Perché la politica ama il consenso e la ricerca del consenso spesso si rifugia nel desiderio di di piacere sempre agli elettori, di dire loro cose sempre solo positive. Colau nel suo rapporto ha indicato molti progetti, progetti concreti, riforme, cambiamenti che il paese dovrebbe in qualche modo fare. E' chiaro che avendone indicati più di 100 spetta alla politica a scegliere. E siccome la politica nel nostro paese è sempre così desiderosa di accrescere il proprio consenso a scapito di quello degli avversari, e nelle decisioni non importa tanto il merito delle cose che si fanno, ma piuttosto là dove si spera di avere un consenso maggiore. E quindi questa che potrebbe essere un'occasione, e lo si dice sempre, trasformare la tragedia del Covid in opportunità per il paese, rischia invece di trasformarsi in un'ennesima occasione perduta. E sarebbe grave perché noi abbiamo alle spalle anni di sofferenze, anni di declino, e quindi bisognerebbe prendere questo esattamente come l'occasione per migliorare. Ma i tecnici non sono amati dai politici. Ecco ma non scusi che cosa, che impressione le fa il fatto che a Salvini piaccia questo, li piaccia, ha detto che praticamente una serie di cose Colau le ha prese dal piano della Lega. Beh perché insomma Colau non ha bisogno di copiare da nessuno, meno che mai dall'agenda della Lega. Vorrei dire che a Salvini, io penso che Salvini abbia espresso questa posizione perché vede che ci sono delle divergenze di opinioni all'interno della maggioranza e allora lui vuole subito dire no, questo va bene per noi, perché spera di alimentare quelle stesse divisioni. Credo che sia solo strumentale questo suo giudizio. Antonio Patellaro sei d'accordo? Il piano Colau piace a Salvini che appunto dice molte proposte, le aveva già fatte lui prima. Che segnale è questo? Sì, sono d'accordo con la professoressa Fornero, mi sembrano così tutte polemicuzze tipo strumentale. Il problema è come il piano Colau diventerà, si trasformerà in provvedimenti concreti che arriveranno al Paese cambiando tutto ciò che c'è da cambiare. Io faccio un esempio. Nel piano Colau si dice una cosa molto giusta, si dice che i fornitori dello Stato, della pubblica amministrazione, devono essere pagati entro 30 giorni. Vasto programma, visto che i debiti della pubblica amministrazione attualmente assommano a 30 miliardi di euro. Allora, io credo che prima di arrivare agli stati generali, che sono una cosa buona e giusta, il governo avrebbe dovuto già da tempo fare in modo che questi debiti della pubblica amministrazione fossero intanto diventassero crediti esigibili dai fornitori oppure approvando subito una norma che potesse in qualche modo compensare debiti fiscali e crediti. Quindi ci sono delle cose che si possono fare anche senza grandi manifestazioni eccetera. Dico una cosa rapidissima. Sappiamo che coloro che hanno richiesto la cassa integrazione sono tanti, per carità sono tanti, quasi più di 8 milioni, ma ancora un milione di queste persone non hanno ricevuto la cassa integrazione, la CIG del mese di marzo. Allora, ripeto, prima di andare ai grandi scenari che vanno benissimo, ma perché non si interviene immediatamente su queste cose concrete che darebbero un segnale di concretezza e di realismo? Ecco, perché forse la risposta è venuta un po' oggi Stefano Massini quando abbiamo letto sui giornali che il Premier Conte pensa e è convinto che ci siano pezzi dello Stato che stanno remando contro il suo governo. E' questo il problema o è che questo governo non è all'altezza della situazione emergenziale? Questo governo ha troppi pochi tecnici al suo interno perché sennò potrebbero fare anche cose in modo più efficace, anche se magari in alcuni casi meno popolari. Lei che si fida più dei tecnici o dei politici? E' una gran domanda. In questo Paese molte volte è successo che i tecnici dovessero fare il lavoro sporco. Quello che la politica non faceva esattamente perché, come ha detto prima la professoressa Fornero, la politica è legata al consenso e molte volte il lavoro sporco si fa fare a chi il consenso poi non lo richiederà. Il punto qual è? Il punto è che molto spesso in questo Paese abbiamo chiesto che cosa ai tecnici? Abbiamo chiesto di essere competenti e di essere soprattutto univoci, cioè di non essere persone che in qualche modo dicessero una cosa nelle ore pari e l'opposto nelle ore dispari. Io credo che, ahimè, in questo momento ci sia anche una questione di cui tener conto, che per tanto tempo i tecnici sono stati prevalentemente gli economisti. Quando si parlava di tecnici si faceva riferimento agli economisti. In questo momento noi veniamo da una fase, non credo sia secondario, in cui il Paese durante l'emergenza è stato di fatto gestito, commissariato da un'unione fra la politica e un'altra tipologia di tecnico, che era il virologo, lo scienziato. E qui secondo me, attenzione, perché i tecnici non hanno fatto una bellissima figura, nel senso che abbiamo sentito dire nelle ore pari che il virus era un'influenza, nelle ore dispari che era peggio di Ebola, abbiamo sentito dire poi che nelle ultime ore, addirittura oggi, il commissario, il capo dei tecnici dell'OMS sulla lotta al coronavirus, Marta Fanker-Cove dell'OMS, se ne è venuta fuori dicendo che gli asintomatici non possono contagiare quelli che appunto sono sani, che è l'esatto opposto di quello che invece ci dicono in Italia. Hanno smentito poi l'organizzazione mondiale della sanità. Abbiamo questa gara di, lasciandoci a volte pensare che i tecnici, diciamo virologi, cercassero l'esposizione mediatica più di quanto magari non facesse la politica, per cui non so se in questo momento mi sto fidando più dei tecnici che dei politici. L'altra risposta che le debbo alla sua domanda è quella sul governo. Beh, intanto mi faccia dire che è facile, dopo un'emergenza planetaria, dopo un contesto totalmente imprevedibile e imprevisto, alzarsi e dire il governo ha fatto male. Sfido chiunque a fare meglio di quello che il governo ha fatto in una situazione di emergenza come quella che abbiamo vissuto. Il punto qual è evidentemente? È che finita l'emergenza, torniamo a guardare, a uscire da casa, a guardare il mondo e ci rendiamo conto che ci sono da organizzare una serie di cose che sono di una complessità infinita, sulle quali il governo a volte sta facendo delle brutte figure. Guardi cosa sta accadendo adesso, oltre che per quello che diceva Padellaro, cioè di gente che sta lottando con il sito dell'Inps che quasi in modo sfottitorio gli dice ritenta, sarai più fortunato domani. Quindi c'è gente che tenta di avere il sussidio di Cassa Integrazione e si vede appunto ringraziato per essersi connesso al sito, riprova domani, sarai più fortunato. Ma guardi cosa sta accadendo con l'esame di maturità. Noi abbiamo tantissime commissioni di maturità che a pochi giorni dall'inizio dell'esame non sanno ancora che è il presidente. Stiamo parlando della ripresa della scuola a settembre, ci venne detto che i bambini saranno messi tra il plexiglass o il cellofan o chissà quale altra diavoleria. È veramente difficile in questo momento gestire un'emergenza come questa. Professoressa Fornero, lei darebbe che voto al governo Conte per come ha agito in questa emergenza e perché tante cose non riesce a farle come andrebbero fatte? Perché è davvero una situazione così di emergenza straordinaria o perché pezzi dello Stato remano contro? Voi avete fatto anche tante cose nel governo Monti e avete dovuto lavorare con pezzi dello Stato. È vero che Palazzo Chigi oggi poi ha smentito a un certo punto le parole di Conte sui pezzi dello Stato che remerebbero contro. Lei come lo giudica questo governo? Intanto finora si diceva genericamente la burocrazia, lo scacolo e la burocrazia. Quindi fare della burocrazia il grande nemico per l'efficacia dei provvedimenti, era un po' anche questa, una scappatoia troppo facile e anche se vogliamo la ricerca di un capro espiatorio che in politica è una cosa molto diffusa sempre perché l'assunzione di responsabilità è cosa piuttosto rara. Io devo dire che il governo lo si valuta anche rispetto ad alternative possibili. Siccome io non vedo alternative possibili sono non tanto per convinzione personale ma per lo stato di necessità devo dire che questo governo non ha per l'appunto fatto così male nell'emergenza. Ha scelto di chiudere il Paese e questa è stata una decisione sicuramente efficace sicuramente dai costi molto molto elevati. Bisogna anche dire, e lo voglio qui dire, che nel governo secondo me il Partito Democratico che è il partito che ha una tradizione ha anche delle persone molto capaci io considero che sia stato troppo arrendevole. Cioè il Partito Democratico poteva avere l'autorevolezza qualche volta rispetto per esempio ai Cinque Stelle che sono magari portatori di grande entusiasmo ma anche di minori conoscenze il Partito Democratico poteva imporsi un po' di più. Su che cosa in particolare professoressa Fornero il PD avrebbe potuto imporsi di più? Potrebbe imporsi di più? Beh per esempio lasciamo stare la parentesi del Covid perché la parentesi del Covid che ha colto tutti di sorpresa ha portato il governo a dire e qui l'hanno detto direi all'unisono era più l'opposizione che faceva voci stonate dicendo anche cose contraddittorie ma il governo ha detto chiudiamo e va bene poi c'è stata la distonia con le regioni ma questo è un altro discorso. Ma anche prima beh prima venivamo da un governo da un governo populista e sovranista il primo governo populista in Europa nell'Europa e l'abbiamo avuto noi e hanno preso dei provvedimenti brutti allora che i 5 Stelle allora hanno accettato poi hanno criticato ebbene il Partito Democratico poteva dire adesso però qui si svolta e non si svolta soltanto dicendo che quello che è capitato prima parlo dei decreti di sicurezza è stato fatto perché perché c'era Salvini il ministro dell'interno no perché non fa parte della nostra politica non deve far parte della nostra agenda di governo e quindi lì e cominci subito a un pochino raddrizzare l'agenda che ti dà un po' maggiore sostanza dà anche l'impressione di un governo che non naviga soltanto ma ha un'idea di futuro e invece qui sembra che l'idea di futuro se la debbano far dare dalle task force ogni ministro ne ha almeno due questo è un po' strano Antonio Padellaro questo è un tema vero quello che sta ponendo la professoressa Fornero il PD troppo arrendevole leggiamo sui giornali di retroscena appunto che si riferiscono al Partito Democratico dove sembrano crescere i malumori nei confronti di questo governo nei confronti di Conte anche del protagonismo del presidente del Consiglio però il segretario del PD Zingaretti è molto pacato per usare un eufemismo anche ieri dopo la loro riunione ha detto ci vuole un salto di qualità oggi ha detto il governo sia concreto e utile per andare avanti bisogna andare avanti ma ci vuole insomma questo salto di qualità è troppo arrendevole il PD allora tre rapidissime considerazioni la prima che bisogna tenere conto dei numeri è in Parlamento attualmente il Movimento 5 Stelle è il doppio della rappresentanza del Partito Democratico perché così hanno detto gli elettori e quindi i numeri contano la professoressa Fornero lo sa il secondo elemento è che questo stimolo lo fa stavo usando un eufemismo Renzi cioè io ho l'impressione che Zingaretti di fronte a un Renzi che un giorno sì e l'altro pure crea un problema al governo abbia deciso di fare così di dare un'impronta di serietà e di equilibrio al Partito Democratico perché altrimenti si mette sulla scia di Renzi il terzo elemento però e lo dico senza ironia è che il Partito Democratico che era moribondo è riuscito in questi mesi in questi anni a risalire la china continuando però a fare il morto cioè il fatto di non parlare di non fare polemiche di stare un pochino diciamo al gioco tutto sommato ha giovato al Partito Democratico che qualche che qualche punto in più lo ha preso e poi insomma ognuno ha la natura che ha Zingaretti non è un non è un'attaccabriga ed è anche una qualità questa allora Stefano Massini Zingaretti non è un'attaccabriga lei che idea si è fatto e il Premier Conte perché quando lei è stato qui l'ultima volta 8 e mezzo prima del lockdown fece un ritratto del Presidente del Consiglio tutto sommato molto positivo come è cambiato in questi mesi? Guardi io mi sono fatto la mia idea e le dico questo che politicamente parlando diciamo il capitale personale in termini di popolarità e di sostegno di un Presidente del Consiglio è un fattore che molte volte non è elemento di tranquillità è elemento di preoccupazione e addirittura di ostilità per chi lo sostiene oltre che per chi lo combatte noi veniamo da un momento in cui abbiamo avuto per dei mesi abbiamo avuto i tricolori alle finestre abbiamo avuto l'inno nazionale cantato dai terrazzi abbiamo avuto inevitabilmente un trauma collettivo che ha unito l'Italia e ha fatto lievitare magicamente la popolarità e il consenso al governo era inevitabile io ho la sensazione che un elemento tutto forché secondario sia proprio questo il Presidente Conte adesso dopo il lockdown ha un capitale personale di popolarità nel paese molto forte e questo paradossalmente preoccupa chi lo sostiene è troppo forte questo è il problema anche perché se Conte facesse il suo partito e ruberebbe voti tantissimi ancora non ne sappiamo niente io probabilmente la mia analisi è troppo semplice ma a volte dicendo cose semplici ci si prende io ho la sensazione che il punto sia proprio questo l'eccesso l'eccessivo peso specifico che Conte ha guadagnato durante il lockdown che ancora non è chiaro come spenderà e di conseguenza questo atterrisce è la mia ipotesi atterrisce chi gli sta intorno e le piace Zingaretti il segretario del PD lo trova efficace sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Padellaro che non c'è soltanto Zingaretti ci sono Zingaretti e Renzi e come tante volte accade nella commedia all'italiana diciamo per capire bene il triangolo bisogna considerare non soltanto il marito ma anche l'amante è d'accordo professoressa Fornero e siamo a martedì e nessuno sa come e con chi verranno fatti questi cosiddetti benedetti famosi stati generali del presidente del consiglio Conte erano davvero così urgenti così necessari e quale sarebbe la cosa più importante e più urgente che questo governo dovrebbe fare subito Allora io sono d'accordo Conte ha una notevole popolarità ma la popolarità in politica non è sempre una dote positiva e personalmente Conte ha anche una serie di incoerenze e di contraddizioni che ne peseranno quindi adesso va bene è stato anche bravo è stato capace di dire le cose giuste ma alla fine le scelte vanno fatte e qui noi parliamo di un'occasione perché cosa perché adesso lo voglio dire può sembrare una cosa brutta ma in questa crisi la cosa che bisogna fare è quella che i politici riesce meglio cioè quella di indebitarsi ma noi siamo un paese che ha già un grande debito pubblico e oggi non è un problema e io stessa dico che in queste circostanze ricorrere al debito è necessario ma parlare di risorse che ti arrivano a debito come di un tesoretto è un messaggio sbagliato perché lei mi ha chiesto qual è la cosa principale che deve fare la cosa principale e più urgente è da un lato lo diceva prima Massini la scuola un paese che non sceglie la scuola al primo posto è un paese che non pensa al suo futuro questo lo dico ma oltre alla scuola e qui c'è un'inadeguatezza complessiva della risposta questo credo che sia chiaro a tutti a tutte le famiglie ma oltre a questo bisogna riavviare la produzione le attività produttive perché con le attività produttive c'è il vero reddito adesso noi chiamiamo reddito qualunque trasferimento pubblico un reddito di cittadinanza un reddito di emergenza ma questi sono trasferimenti soldi che prendi da una parte dal debito che lascerai ad altri e li metti da un'altra la produzione invece il reddito lo genera ed è questo che dobbiamo fare allora la prima domanda è il Presidente Conte dica quante imprese hanno ricevuto il loro credito garantito dallo Stato e quante con questo credito hanno riavviato la produzione e fatto tornare gli operai in fabbrica gli impiegati nell'ufficio e così via questo dà a ciascuno di noi la sensazione che il Paese si sta rimettendo in moto non è con gli annunci in cui Conte è bravissimo però non è con gli annunci che il Paese si rimette in sesto e soprattutto prende la direzione giusta e qui io lo vedo maggiormente debole sia perché ha una maggioranza litigiosa non litigiosa in modo aperto e sguaiato ma certamente poco consensuale poco d'accordo sia perché poi ciascuno lì vuole per l'appunto guadagnarsi qualche popolarità e allora questo momento delle scelte è difficile e non lo si può lasciare ad altri alla fine la responsabilità è dei politici io stessa che ho fatto parte di un governo tecnico dico che i governi devono essere politici e i politici si assumono la responsabilità delle decisioni che prendono anche quelle non necessariamente popolari e le raccontino in maniera sincera ai cittadini solo distribuire con il debito è relativamente facile ma lei lo vede solido questo governo Conte o pensa che quando Salvini e Meloni chiedono elezioni politiche a ottobre fiutano l'aria e potrebbe trovarsi in difficoltà siccome io penso al paese devo sperare che il governo sia solido perché come ho detto prima l'alternativa per me è peggiore e anche quando io ascolto l'opposizione non c'è un disegno per il paese questa opposizione era un'opposizione che voleva portarci fuori dall'Europa oggi gli italiani tutti dovrebbero sapere che se c'è qualche possibilità di cavarci ce l'hai anche grazie all'Europa che ci aiuta e quindi meno male che ci siamo dentro l'Europa e meno male che l'Europa sta anche mostrando di cambiare atteggiamento ma le cose si costruiscono uscire dall'Europa sarebbe stata una grande legge lei è cambiata in questi mesi perché poi Massini ci spiegherà che dopo la scarica di adrenalina provocata dallo shock del coronavirus insomma siamo cambiati lei è cambiata e Salvini lo vede cambiato Salvini è camaleontico perché va dove fiuta consenso quindi non so quanto siano sinceri i suoi cambiamenti anche se mette gli occhiali e si dà un'aria un po' più intellettuale io penso quanto a me beh diciamo che ci sono c'è una grande occasione per riflettere perché io viaggiavo moltissimo e sono stata sempre in casa e questo vuol dire che non è che hai molto più tempo perché oggi tutti fanno webinar tutti sono collegati e tutti chiedono collegamenti e va anche bene però certamente c'è l'occasione per riflettere ora io sono una persona anziana quindi il mio tempo non è molto lungo non lo voglio sprecare per esempio non lo voglio sprecare litigando non lo voglio sprecare in polemiche inutili io penso che questo dovrebbe essere un po' l'atteggiamento del paese cerchiamo per una volta di costruire senza litigare io trovo che l'esempio del Portogallo è bellissimo è un piccolo paese ma ha dato una grande di unità e prendiamole queste lezioni e credo che questo sia molto difficile nel nostro paese Massini mi dica rapidamente come siamo cambiati se lei è cambiato e qual è il conto emotivo da pagare di cui lei parla qual è il conto emotivo da pagare il conto emotivo da pagare è che io vado per strada e adesso mi domando se la persona che sta venendo verso di me sul macciapiede potrebbe avere il coronavirus primo è conto emotivo secondo conto emotivo è che da mattina a sera ininterrottamente un meccanismo non soltanto della politica ma di tutti i mezzi di comunicazione continua a indulgere su questa colossale boiata me lo faccia dire del dire ancora il peggio deve venire ancora non ne siamo fuori ci sarà la seconda ondata e tutta una marea di previsioni catastrofiche completamente del tutto inutili che non portano da nessuna parte se non a far toccare le parti basse a noi maschietti per quello che riguarda poi il resto del conto emotivo di cui lei parla beh le posso dire soltanto che siamo cambiati si siamo cambiati profondamente perché? perché abbiamo toccato con mano che quello che consideravamo impossibile invece era possibile questo scenario cioè New York chiusa cioè nessuno che può più uscire il mondo del lavoro che si blocca un crollo del pil come quello che si annuncia era qualcosa che forse nei peggiori film di fantascienza catastrofica lo vedevamo adesso ci siamo dentro e questo secondo me crea un meccanismo concludo sul conto emotivo per cui se è successo questo chissà cos'altro potrebbe accadere io l'ho detto pubblicamente lo ripeto non mi stupirai che arrivassero gli alieni non mi stupirai a questo punto di niente perché dopo aver visto questo qualunque cosa mi sembrerebbe plausibile allora poi invece qualunque non siamo appunto nella fantascienza la pandemia come sapete ha colpito tutto il nostro paese non solo l'Italia ma il sud Italia è stato colpito molto meno del nord e questa non è solo una fatalità e ce lo spiega bene Paolo Pagliaro nel suo punto pochi secondi di pubblicità se il disastro colpisce il sud si cercano le responsabilità dei meridionali se colpisce il nord si loda la capacità di combatterlo è l'approccio sbilanciato che ha spinto lo scrittore Pino Aprile meridionalista o transista a raccontare in un pamflet con quanta determinazione il mezzogiorno abbia saputo opporsi alla pandemia di coronavirus limitandone i danni e questo non solo grazie alla buona sorte perché mentre i giornalisti italiani erano occupati a cercare gli assembramenti nel rione sanità la tv francese lo spagnolo e il paese scoprivano a Napoli l'organizzazione e i protocolli del Cotugno l'unico ospedale covid senza contagi tra ricoverati e personale e lo paragonavano a un'astronave ma in Italia nessuno lo copiava e non c'era ministero che lo proponesse agli altri ospedali i quali salvo pochi buoni esempi come l'ospedale di Padova continuavano orgogliosamente a restare indenni dal protocollo terrone ma non dal virus nel libro il male del nord primo titolo della nuova casa editrice pieno giorno fondata da Carlo Musso e Francesco Aliberti fino a aprile racconta anche la storia di Paolo Ascerto direttore dell'unità di melanoma dell'istituto pascale tra i primi nelle classifiche mondiali impegnato nella sperimentazione di un farmaco in grado di ridurre i danni del virus ma che l'Italia nei giorni del covid ha saputo premiare solo col gabibbo il libro ricorda poi i presidenti delle regioni del sud i quali invece di litigare col governo su chi doveva chiudere i paesi infetti li hanno chiusi e basta e invece di annunciare nuovi mega ospedali in poco tempo e con pochi soldi hanno aumentato di centinaia i posti letto in terapia intensiva fino a aprile si chiede cosa sarebbe accaduto e cosa avremmo scritto se l'epidemia fosse scoppiata al sud e da lì fosse stata portata al nord ma è una domanda retorica a cui carità di patria consiglia di non rispondere siamo in chiusura grazie professoressa Fornero grazie Antonio Padellaro grazie Stefano Massini vi aspetto tutti e tre presto di nuovo qui e io do la linea subito Giovanni Floris al suo di martedì e noi come sempre ci vediamo domani un minuto e mezzo grazie arrivederci